Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. La polizia di Fondi ha denunciato un infermiere perché beccato in auto con diversi medicinali che possono dare effetto narcotico senza avere la specifica ricetta medica. Gli agenti lo hanno fermato per un normale controllo sull'Appia, nel territorio di Fondi. Durante le verifiche di rutini i poliziotti hanno proseguito la perquisizione trovando a bordo del mezzo ben 50 confezioni di medicinali incompresse cerotti e altre tipologie di medicine per un totale di oltre 150 dosi i risultati essere tra quelli ad effetto stupefacente. Da qui è scattata la denuncia. È stato arrestato dai poliziotti di Terracina e deve rispondere dei reati di atti persecutori e tentata estorsione a un uomo di 44 anni del posto. Secondo il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina l'uomo avrebbe preteso dalla sua presunta vittima che questo spacciasse droga per riuscire a saldare un debito economico. L'uomo però, stanco della situazione in cui si trovava, avrebbe deciso di denunciare tutto alle forze dell'ordine, arrivando poi all'arresto. Fondi e Itri ancora piangono i propri figli, Guido e Rosanna, tragicamente venuti a mancare sabato durante l'incidente sulla strada che, proprio da Itri, conduce al santuario della Madonna della Civita e che ha visto il decesso anche di un altro uomo di Arce. Oggi l'ultimo saluto all'uomo di 43 anni di Fondi. I funerali di Guido De Filippis verranno celebrati nella chiesa di Santa Maria in piazza. Mercoledì, invece, il lutto cittadino a Itri per i funerali di Rosanna a Dessi, 46 anni e volontaria del Comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana. La messa, in questo caso, avverrà alle 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Il Sud Pontino non dimentica la memoria del giovane Romeo Bondanese ucciso a soli 17 anni al termine di una drammatica lite con tanto di coltello in pieno centro a Formia nel febbraio di due anni fa. La dirigente scolastica dell'Istituto Caboto di Gaeta, che Romeo Bondanese frequentava, nei giorni scorsi ha deciso di consegnare ai genitori del povero Romeo un diploma alla memoria per rendere omaggio a quel giovane che non ha potuto diplomarsi come tutti gli altri. Impossibile per la comunità parrocchiale che lo ha accompagnato per anni dimenticare la figura di Don Simone di Vito scomparso nelle scorse settimane. Proprio per tale motivo è stato deciso che l'oratorio parrocchiale di Santa Albina di Scauriam in turno verrà intitolato proprio al sacerdote diocesano che è stato parroco di quella comunità così a lungo. Il prossimo 4 marzo alle 18.30, dopo la messa in suffraggio di Don Simone, si procederà all'intitolazione dell'oratorio parrocchiale. Oggi giornata in cui si festeggia il carnevale nel primo vero inverno nel quale il covid, seppur ancora presente, sembra non impedire momenti di aggregazione. Si moltiplicano gli eventi in piazza legati alle feste in maschera. Molti sono quelli nei principali centri del sud pontino. Le iniziative sono legate principalmente a momenti aggregativi con premiazione delle mascherine più originali e anche in alcuni centri carri allegorici. Si festeggia con feste più o meno importanti in diversi centri, tra cui Minturno, Fondi, Itri, Leno, La Gaeta, Formia e in quasi tutti i comuni del sud del Lazio. Siamo in chiusura del nostro notiziario. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.